A Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, sono riprese le visite guidate per gli studenti piemontesi. Nel corso della visita vengono illustrati i ruoli e funzioni istituzionali del Consiglio regionale e le attrattive storico- architettoniche del palazzo. Dopo il video introduttivo, l'itinerario si snoda dall'atrio al belvedere alle sale auliche per concludersi nell'aula sotterranea dell'Assemblea regionale. La prenotazione può essere effettuata online dal sito internet del Consiglio regionale compilando la scheda prenotazione scuola.